Buon pomeriggio. Nella mia breve relazione vorrei porre in evidenza come sperimentazione e avanguardia, elementi fondanti della narrazione artistica del secondo novecento, siano forze irrinunciabili, non contrapposte ma complementari, se si voglia includere tra le forme d'arte anche quella apparentemente più frivola, che chiamiamo popular music. Ma che cosa si intende per popular music innanzitutto? Per il musicologo Richard Middleton, che è autore di questo saggio fondamentale, studiare la popular music, attorno a questo termine si stratificano più significati, ereditati dai secoli precedenti e in particolare dall'Ottocento. Middleton ne indica almeno quattro, fornendo quattro definizioni di popular music. Una definizione normativa, la popular music è un tipo di musica qualitativamente inferiore. Una definizione tecnologica economica, la popular music è diffusa dai mass media o dal mercato di massa. Una definizione negativa, la popular music è musica che non può essere definita in altro modo. E infine una definizione sociologica, la popular music è associata a, o prodotta per, o prodotta da, un particolare gruppo sociale. Riguardo ai termini avanguardia e sperimentalismo, trovo illuminante la definizione di Angelo Guglielmi, critico e illuminato dirigente Rai, esponente storico del gruppo 63. L'avanguardia agita una poetica, rinunciando per amor suo alle opere e produce piuttosto manifesti, mentre lo sperimentalismo produce l'opera e solo da essa estrae, o permette poi che si estragga, una poetica. E ancora, lo sperimentalismo tende a una provocazione interna al circuito della intertestualità, del dialogo fra varie forme espressive, l'avanguardia invece ad una provocazione esterna nel corpo sociale. Non è un caso che due esponenti del gruppo 63, due importanti esponenti del gruppo 63, Balestrini e Sanguinetti, abbiano collaborato strettamente con i due compositori italiani, che in quel periodo incarnano più di ogni altro queste due tendenze, la sperimentalista e l'avanguardista. Si tratta di Luciano Berio e di Luigi Nono. Per dirla con le parole di Umberto Eco, l'avanguardia presuppone una sorta di attacco violento, lo sperimentalismo invece è un lento lavoro sulla pagina. Secondo questa visione, avanguardia e sperimentalismo non sono contrapposte, ma rappresentano due facce della stessa medaglia. Il compositore Michael Nyman, nel suo libro del 74, Musica sperimentale, solo nel 2011 uscito in italiano, invece contrappone decisamente avanguardia e sperimentalismo. Lo sperimentalismo, secondo Nyman, è appannaggio quasi esclusivamente anglo-americano e si coagula all'inizio attorno alla figura fondamentale di John Cage. L'avanguardia invece è quella europea, quella europea di Stokhausen, di Bulesi, di Xenakis, di Cagel, di Bussotti, per i quali l'identità di una composizione è di importanza fondamentale. Ma voltiamo pagina. Non vorrei pensaste che i parametri della sperimentazione e dell'impegno programmatico siano appannaggio esclusivamente della musica colta o comunque siano estranei al panorama popolare. Non è così. Questi paradigmi, queste visioni del mondo, tracimano e circolano da un genere all'altro, finendo per permeare l'intera controcultura degli anni Sessanta. E anzi proprio grazie alla musica che i valori della controcultura si diffondono in modo pervasivo in tutto il mondo. Per John Cage, che come abbiamo visto è l'antesignano della visione sperimentalista, un'azione sperimentale è quella il cui risultato non è prevedibile. L'attenzione è dunque più sul suono che sul metodo compositivo. Per trasferire questo assunto alla popular music, però, dobbiamo fare entrare in gioco la tecnologia. I tardi anni Sessanta sono anni importanti per il progresso delle apparecchiature elettroniche di produzione e di registrazione del suono. La tecnologia consente raffinate tecniche di sperimentazione, le sovraincisioni sono diventate ormai abituali in sala di registrazione e la tavolozza sonora prodotta in sala di incisione si arricchisce grazie a strumenti innovativi quali il sintetizzatore di Robert Moog nel 1966 fino alla sua versione portatile che poi imperverserà su tutti i palcoscenici mondiali durante la stagione del Progressive a partire dal 1970. Allora, il ricambio generazionale e il desiderio di ribellione dei giovani, la controcultura come opposizione, la psichedelia e l'uso delle droghe per ampliare la coscienza, le nuove tecnologie al servizio della musica, tutti questi elementi contribuiscono insieme a creare un formidabile combustibile per la popular music. La volontà di cambiamento è così potente da generare un vero e proprio fenomeno di costume. La sperimentazione in quanto desiderio non è più confinata nello studio d'artista, ma si fa dal vivo e soprattutto in sala di incisione finendo immortalata sul disco in vinile. Emblematico di questo momento di passaggio è lo scarto fra due album fondamentali per i Beatles, che allora erano il gruppo musicale più popolare al mondo, come sappiamo. Sgt Pepper's Lonely Arts Club Band esce nel 67. Nel 66 i Beatles hanno deciso di sospendere i concerti al vivo e si sono trasformati, grazie all'apporto del loro produttore George Martin e allo staff tecnico della EMI, in una formidabile macchina di produzione musicale da studio. Per inciso, questa copertina costò mediamente dieci volte tanto quanto le copertine costavano a quel tempo. I personaggi raffigurati rappresentano una platea ideale a cui idealmente erano rivolte le canzoni dell'album. I collage sonori, i raga indiani, il gusto per l'ironia, le allusioni psichedeliche, l'invenzione melodia di McCartney sono tutti elementi profusi a piene mani in questo straordinario album. E per inciso, con questo album e con questa copertina inizierà la leggenda della presunta morte di Paul McCartney, la cosiddetta P.I.D., Paul is dead. L'adozione di una identità fittizia collettiva, quella della band dei cuori solitari del sergente Pepe, consente davvero ai Beatles una grande libertà di sperimentazione musicale e visiva. È il periodo in cui Lennon e McCartney cominciano a ispirarsi alle idee della controcultura. John Lennon incontra Yoko Ono nel 1966, artista e figura di punta del movimento Fluxus di New York, i cui membri erano fortemente influenzati da John Cage. Il disco fu uno dei primi concept album, cioè fu realizzato con in mente una concezione unitaria che legasse i vari brani, e fu il primo album a includere i testi integrali delle canzoni. Questo disco permise ai Beatles di rompere i tradizionali schemi di composizione musicale e visiva, e come riconobbe George Martin, di avere l'opportunità di percorrere territori ancora inesplorati. Il White Album, che poi non si chiama White Album, ma semplicemente porta il nome del gruppo, convenzionalmente lo chiamiamo White Album, uscito nell'anno successivo, nel 1968, marca una netta discontinuità con il precedente. Sgt. Pepper evidenziava l'amalgama, la partecipazione corale, l'affiatamento dei quattro Beatles. Il White Album, con poche eccezioni, invece è una collezione di creazioni individuali. Dove Sgt. Pepper sembra un inno alla psichedelia, il White Album apre invece un fronte minimalista. Malgrado le tensioni, che ormai sono evidenti fra i quattro membri della band, è comunque uno dei dischi più variegati e sperimentali del gruppo, con i 30 brani che alternano scorribande fra i più disparati generi musicali, e uno, il famoso Revolution 9, di pura, esclusiva sperimentazione sonora. Il White Album rimase per dieci anni consecutivi il doppio album più venduto della storia. L'influsso di questi due album sulla popular music di fine anni Sessanta fu enorme. D'altra parte, ciò ha perfettamente senso se li inquadriamo in un periodo in cui la sperimentazione della popular music non solo era accettata, ma giudicata addirittura necessaria, con un effetto paradossale, se ci pensate, perché pur essendo la popular music a tutti gli effetti un prodotto di mercato, il contesto sociale e culturale alla base del suo consumo rimaneva favorevole alla controcultura e oppositivo all'establishment. Negli anni Sessanta, il rock tende ad affrancarsi dalle convenzioni della musica commerciale. I musicisti sentono il bisogno di esplorare nuove sonorità, di usare strutture armoniche e ritmiche più complesse, i brani diventano più lunghi, le tecniche di registrazione e produzione sempre più sofisticate. Allora c'è un filo ideale che connette John Cage, il movimento Fluxus, di cui Yoko Ono faceva parte, il brano Revolution 9 del White Album dei Beatles, il Free Jets, e conduce dritto a Frank Zappa, a gruppi come i White Noise, i Residents, ai bordoni psicheletrici dei Velvet Underground, fino ai Pink Floyd, su cui vorrei soffermarmi nella parte conclusiva del mio intervento. Nei tardi anni Sessanta, i Pink Floyd erano ancora una band underground, a tutti gli effetti. Ma dall'epoca di Sid Barrett, questa epoca, fino a The Dark Side of the Moon, il loro disco più iconico, assisteremo ad un'evoluzione significativa. Dal rock psichedelico, una musica sperimentale basata sulla improvvisazione collettiva, il gruppo arriverà gradatamente alla composizione di brani sempre più strutturati, fino alla cosiddetta Tentazione Sinfonica. Il culmine dello sperimentalismo viene toccato con Amma Gamma nel 1969. Si tratta di un doppio LP, il primo dal vivo e il secondo realizzato in studio. La band eseguiva in quegli anni musica improvvisata sul palco alla maniera di una performance sonora in un contesto multimediale, e sperimentava molto anche in studio. E il secondo disco di Amma Gamma è appunto un insieme di brani sperimentali. Ciascuno dei quattro membri della band prese per sé metà lato del secondo disco per creare e registrare in completa libertà ciò che preferiva. Il primo lato, quindi, comprende tracce composte suonate da Rick Wright e Roger Waters, il secondo, tracce di David Gilmour e di Nick Mason. Questo disco è un esempio perfetto della contrapposizione fra popular e musica d'arte e o sperimentale, che improntò i lavori di molte rock band dei tardi anni Sessanta. Ci mostra inoltre con chiarezza il ruolo che ciascun musicista rivestì nel processo creativo. Così Wright conduce la band verso i paesaggi sinfonici, fa una specie di concerto per pianoforte e orchestra. Waters e Mason verso le sperimentazioni elettroacustiche più audaci, Gilmour e ancora Waters verso le canzoni. Il percorso espressivo dei Pink Floyd da Amma Gamma fino agli ultimi album, secondo alcuni critici, rappresenta in modo esemplare la parabola discendente che dai tardi anni Sessanta ha investito la popular music. I Pink Floyd, secondo questa interpretazione, sarebbero il simbolo stesso del riflusso e del ripiegamento, specchio della condizione collettiva del nostro tempo. Con grande abilità, infatti, i quattro hanno compreso i limiti e le implicazioni del genere musicale che avevano contribuito ad alimentare e hanno continuato a reinventare se stessi, trasformando lentamente il rock psichedelico, cioè una musica originariamente nata per gli hippie contro l'establishment, in una muzac da ascensore per gli yuppies totalmente integrati nell'establishment. Non è un caso, infine, che in un contesto di consumo sempre più orientato all'immagine, i loro concerti dal vivo siano diventati la macchina visiva più imponente dello show business musicale. Secondo alcuni critici, il controverso Piero Scaruffi, ad esempio, il declino è iniziato nel momento in cui il rock, emigrando dagli Stati Uniti all'Europa, ha perso la propria carica di rompente, quella con cui voleva trasformare il mondo per trasformarsi in una gigantesca macchina da soldi. Secondo questa visione, se il rock fosse rimasto la musica di Bob Dylan, dei fags con la loro satira politica, di Frank Zappa, dei Velvet Underground, avrebbe rappresentato un fenomeno culturale di enorme impatto, capace di produrre capolavori artistici e di generare dibattito intellettuale. Probabilmente, però, non avrebbe mai catturato l'immaginazione delle masse così come fece la musica dei tardi anni Sessanta. Negli Stati Uniti il rock è stato percepito come un evento rivoluzionario, correlato ad un divario generazionale e ideologico fra establishment e sottocultura. In Inghilterra prima e poi nel resto d'Europa, il rock, pur non rinnegando le sue premesse, le ha edulcorate, miscelandole ad una iconografia popolare fatta di capelli lunghi, di minigonne, per renderle accettabili sia al pubblico giovanile che alle masse borghesi. In altri termini, il rock negli Stati Uniti è stato antagonista, ostile e conflittuale, mentre al di qua dell'oceano si è riappacificato con la società trasformandosi in merce. La popular music e il cinema saranno le arti che eserciteranno la più forte influenza sul costume negli ultimi quarant'anni del Novecento. Concludo, d'altra parte non tutto è negativo e il processo ha apportato anche benefici al rock. I musicisti europei hanno innestato sullo spirito originario del rock and roll americano le tematiche artistiche, politiche, filosofiche della cultura occidentale, così come è accaduto per il cinema. Parafrasando McLuhan, per i musicisti americani il rock è stato il medium, non il messaggio. Per i musicisti europei il rock diventerà il messaggio. Grazie. Applausi Grazie.